La Posidonia spiaggiata diventa una risorsa nell'accilento. Ad Acciaroli, nella comune di Pollica, sorgerà il primo impianto d'Europa che la trasforma, trasformandola in energia. Il comune infatti ha lavoro con la Miras Energia SRL per la definizione di un project financing che consentirà di produrre energia elettrica attraverso un impianto innovativo di biometano prodotto mediante la lavorazione della Posidonia oceanica spiaggiata. Superato la parte invernale, prima della stagione estiva, la Posidonia viene recuperata per il surplus che non riusciamo ad interrare, come abbiamo sempre fatto sul nostro arenile, e viene portato in questo impianto. Con questo progetto si potrà risolvere in maniera sistematica e definitiva un problema annoso per tutta la costa e ricavare da questa risorsa un ulteriore beneficio. L'impianto, completamente finanziato con fondi privati, consentirà di trattare la Posidonia, la frazione organica dei rifiuti urbani dei comuni dell'area del Monte Stella. Ottima differenziata, come per Pollico, 82% anche nel mese di agosto, ci consente di portare in un impianto anaerobico in fermentazione contemporaneamente la Posidonia e il rifiuto umido. Da questo si trae del biogas che poi viene utilizzato per la produzione di energia rinnovabile. Un piccolo impianto, 5.000 tonnellate, pensate, Pollica produce in tutto l'anno 500 tonnellate di rifiuto umido. Quindi avremo intenzione di recapitare all'interno del nostro piccolo impianto alcuni dei comuni dell'area della Lento Monte Stella per il rifiuto umido. L'impianto, una volta ultimato l'iter burocratico, dovrebbe essere ultimato nel 2023.